R101 Terza ora di procediamo Dei sorrisi stampiamo Con noi un bel tipo Ci porta il suo libro Che onore avere qui Dottor Giovanni Macri Insomma potevate farla meglio Però insomma si è capito Professore buongiorno Dottor Giovanni Macri Grazie a Radio 101 Grazie a Fernando Proce Che accoglienza Non ci facciamo mancare nulla Allora Dottor Macri è conosciuto nel mondo Anche come Mr. Smile Il signore Dottor Smile anzi Dottor Sorriso Si chiama proprio Dottor Sorriso Questo libro Edito da modatori Eletta Che è uscito in questi giorni Dove racconta un po' la storia Posso professore? Vado io? Un professionista Come dire particolarmente Frequentato da star Della politica Della televisione Insomma dello star system Però un personaggio Che coniuga Sia l'estetica Alla salute Del nostro sorriso Dei denti Ti devo fare due domande tecniche Dottore L'uso della mascherina Che adesso va via via Insomma quindi c'è più attenzione Nel nostro sorriso finalmente Possiamo mostrare All'intero nostro viso Ha preservato da problemi I denti o no? Perché ad esempio Si è parlato dell'influenza Che si è ridotta No? Allora Tutti gli anni a giugno C'è la prova costume Adesso dopo due anni Per fortuna Potremo togliere le mascherine Ci sarà la prova sorriso Quindi una nuova prova Assolutamente Non ha preservato Perché si è visto Che un paziente Una persona su due A casa non ha pulito i denti Con la scusa Anzi è un ali di scusa La mascherina Copre il sorriso Questa mascherina Ha celato per quasi un anno Il nostro sorriso E quindi le persone Non si sono curate tanto Dell'aspetto estetico Perché è tutto funzionale La salute dei denti Poi determina Una buona estetica del sorriso I denti sono belli Se sono sani Tu hai Vivi in un osservatorio Praticamente quasi universale Perché sei insegnante Sei docente All'università di Shanghai Ma sei membro Dell'associazione Dentisti americani Insomma giri Giri il mondo Mangiamo meglio La salute dei nostri denti È migliorata Nella tua lunghissima Esperienza professionale? Allora La salute dei nostri denti È migliorata Per il fatto che Molti dolci Non sono più Dolcificati Con il saccarosio Ma con l'oxilisolo Quindi uno zucchero Molto meno cariogeno Poi L'educazione alimentare Serve Ma nel periodo Del lockdown Con i pasti frequenti Si è creato invece L'effetto opposto Ci sono state Più carie Più malattie Carodontite Per la 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 carodontite Quindi questo periodo È proprio da dimenticare In tutti i sensi In che percentuale La gente È presa di più Dal lato estetico O dalla salute dei denti? Allora Fino agli anni 70-80 Il lato estetico Non era minimamente Pesso in considerazione Soprattutto Dall'uomini Un po' Dalle donne Poi con l'avvento Degli anni 80-90 Le modelle Che hanno Diciamo Diffuso nell'immaginario Collettivo Una nuova tipologia Del sorriso Dei denti Molto importanti Squadrati Denti molto bianchi Allora Si è pensato Che il sorriso Dovesse trasformarsi Nel principale Mezzo di comunicazione Prima era lo sguardo Adesso il sorriso Quindi il sorriso È fondamentale In questo momento Infatti Si può coniugare L'estetica Alla salute Sì Sì Assolutamente Una bocca sana È anche bella Perché Le prime Segni Delle patologie Come le carie È di far diventare I denti Gialloscuri E marroni Quindi rovinare Poi dopo Vengono Eroreati Ci sono tanti sistemi Oggi Per migliorare A partire Dallo sbiancamento Ambulatoriale Fino ad arrivare Alle moderne Facette adesive Che sono Come delle Lezze Che sono sempre più diffuse No? Che sono sempre più diffuse Che prenderanno sempre più Più piede Perché sono attuate Senza Sacrificare Del tessuto sano Senza animali I denti Quelli più penalizzati Siamo sempre noi fumatori? Assolutamente Il fumo Grazie A parte Il problema Che dà Ai polmoni Poi c'è un altro Invece Quello che riguarda La mia materia Il tumore squamo cellulare Della bocca È causato Prevalentemente C'è l'incidenza Tra i fumatori Quindi assolutamente Non fumare Poi c'è un disturbo Del microcircolo Quindi può creare Delle parodontiti E poi Il bruttissimo Disturbo Antiestetico Che è dato Dalle colorazioni Giallo scure A di lettura Colpiscono anche Le facette A volte Perché sei di moda Dottore? Come? Perché sei di moda? Sono di moda Perché ho rivoluzionato Il concetto Di estetica E ho cercato Di far evolvere Anche il sorriso Come Le stesse cose Che succedono Un po' Nella moda Dei cambiamenti Quindi se 50 anni fa Andavano di moda Per le donne Dei denti Piccoli Triangolari Adesso Con la mascolinizzazione Del sorriso Si tende a avere Un po' Un sorriso Unisexy E quindi Un sorriso Completamente diverso E io giro Tutto il mondo Guardando Prendendo spunto Dagli stilisti Che fanno le foto Le modelle E dico Se questi sorrisi Vengono scelte Da persone Che hanno Un grande senso Del gusto Questo in futuro Potrebbe essere Nell'immaginario collettivo La nuova tipologia Del sorriso E comunque Per esperienza Personale Scusami dottore Quando vado a trovare Il dottore in studio Incontri da Pippo Baudo Ad Elodie Da Piero Cambiari E' vero E' come se Essere in uno studio Televiso Però potrei apprecciare Parlando proprio Del mio libro Dove racconto Come io Lascio tanto tempo Anche alle persone Che meno possono E meno hanno Bravo Questo ti fa onore E tu lo sai Perché mi conosci Nel libro Ho scritto proprio questo Come si può arrivare Al successo Professionale E anche economico Bisogna dirlo Perché è vero Senza mai Derogare i principi Di onestà Correttezza Deontologia E soprattutto Senza mai Trascurare Il lato umano La solidarietà Ho aiutato Tanta gente Tu lo sai Ho curato Tante persone gratis Che non potevano E quando posso Insegno ai miei figli Che ho due dentisti Un avvocato E due dentisti Di fare attrettanto Perché nella vita Tutto quello Che tu dai Poi prima o poi Ti torna indietro Ricevi in cambio Il dottor Sorriso E' curioso Vi consiglio Di dare un occhio Perché Insomma E' una storia Fascinante Quella Del dottor E ci sono anche Molti consigli Come mantenere Un sorriso sano E bello E di tendenza Soprattutto di moda Perché anche il sorriso Come tutto Non si sottrae Alle leggi del tempo E quindi alla moda Certo Dottore grazie E' stato un piacere Saluti ai tuoi collaboratori Grazie Grazie Un abbraccio A presto E' un cuirà Soprattutto di moda Grazie a tutti.